Nato nel 1932 con Valenza regionale dal 1963 è diventato internazionale. Stiamo parlando del concorso internazionale della ceramica d'arte contemporanea che ha segnato la storia culturale di Faenza nel XX secolo facendone un punto di riferimento ceramico mondiale, soprattutto a partire dagli anni 70. Per la terza volta nel corso del 2000 il premio è stato dedicato agli Under 40. Il concorso sarà visitabile al MIC dal prossimo 18 giugno. La 57esima edizione del premio Faenza vede la partecipazione di un centinaio di opere provenienti da 22 nazioni di 68 artisti. Gli artisti potevano partecipare con un massimo di tre opere e molti artisti, tra cui anche uno dei vincitori, sarà presente proprio con tre importanti opere. La giuria si è riunita il 7 maggio, come abbiamo detto, e presenta diverse personalità, tra cui due storici dell'arte, un esperto di design e due artisti. Quindi questa pluralità di formazioni ha fatto sì che ci fosse, non dico una discussione, ma un bel consesso per una scelta ottimale dei premiati. Abbiamo guardato non solo la tecnica, che magari era più interessante per gli artisti, ma anche quello che era il linguaggio contemporaneo che esprimevano le opere, e il portato eccezionale all'interno appunto della scultura ceramica. Come si è detto, il premio guarda molto al Giappone, perché nei primi tre premiati ci sono tre giapponesi, a parte un ex equo con un italiano, perché comunque il Giappone è stato sempre presente all'interno del premio Frenza da quando nel 63 divenne internazionale, con artisti che hanno portato un'innovazione del linguaggio ceramico.